lo conoscete quello lì? io sì a presto stasera neanche mezzanotte sono stato di nuovo al disco pub karaoke chissà se canterà perché io me la capo col canto Monelli, Auzano stasera è il mio ex compagno di squadra molto impegnato col lavoro comunque ho brindato con un tizio che non ha voluto che lo filmassi vedrete poi il filmato sono riuscito di scorcio, di sfuggita a registrare qualcosa ma che ci fai qua? dai dai beviamo, ho preso un mascarpone la vita si fa dura, fra l'altro io sono molto esigente, pretendo molto da me per questo che in passato mi depressi, mi angosciai, da solo mi terrorizzai quindi non ho bisogno di eater che mi infamino, non avevo neanche troppa fame stasera tu sei in fame i denti si stanno di nuovo ingiallendo a proposito di denti ingialliti ma c'è il Perù, i mondiali ho tutte le volte che vado a tornare sabato scorso al 64esimo minuto segno Messi di nuovo l'argentino, non aveva giocato altro ieri secondo me vincerà l'argentino mondiale si, mi rifarò i denti d'argento adesso mi sto perdendo Bobby Peru, cuore selvaggio prima ero stato a Imola, locale totalmente deserto che fa freddo a te indosso questa giacchetta di pelle di serpente Modini Cage, Sailor Ripley no, poi ci sarà un video ma sto renderizzando attuando il rendering dell'audiolibro versione video speriamo che resista questa renderizzazione è arrivata quasi al 60% forse ce la farà altrimenti suddividerò in più parti questa mia registrazione e dicevo ero a Imola fra l'altro mi sono arrivati i vari commenti fortunatamente non denigratori e denigranti la mia persona perdono un commento no, una persona che ha inserito un commento perdono se un commento è stato rimosso per sbaglio mi riferisco a chi l'ha mandato se sta vedendo questo video perché anziché approvarlo si vede che era un po' stordito, ubriaco ho cliccato su rimuovi quindi risposta rimosso è stata mosso una critica a chi odia il cinema di Zack Snyder se vuole può rinserire il commento e rinviarlo io ho sempre rinviato la mia vita Bobby Peru simbolo della mia individualità della fede e della libertà personale questo lo dice Nick Cage allora mi trovavo lì a Imola chissà perché io ho smemorato tra l'altro ho scritto questa recensione a febbraio del 2022 di Wild Earth Earth e scendiamo una sigaretta o due tre in contemporanea come Nick Cage in una delle sue performance migliori ma è diretta da Lynch non linciatemi vi prego non siamo sotto il periodo pasquale ma è il periodo pre natalizio quindi io sarò anche stempiato ma non sono pelato e abbasso ponzi e pilato ora mi trovo lì a Imola mi è venuto in mente il cuore selvaggio perché sto allestendo una cosa che vedrete su Lynch tra l'altro io sono detentore creatore e il redattore del Mulona Lynch quante cose non sapete di me in questi anni ho creato vari siti geniuspopstefanofaloteco.com che dovrei rinnovare e questo sito in cui appaiono dei conigli come me quelli di Inland Empire ora sì perché anni fa ho incontrato un tizio ma non ho mai pensato di creare dei siti non ci ho guadagnato molto AdSense funziona ma forse si guadagna si monetizza di più con YouTube ma mica tanto per raggiungere 70 euro che è la cifra minima per richiedere il pagamento vabbè comunque ho pensato il mio prossimo raccolto di Ciro sarà su cuore selvaggio l'ho scritto a febbraio questa recensione che ha aggiustato perché avevo scritto opus latino e maschile opus lavoro ma l'avevo intesa come opera e avevo accordato tutto al femminile quindi corretto lì c'è anche su Da Roma View ho ottenuto più di mille visualizzazioni questa review ci sarà un mio deja vu ma io e lei ce l'avevamo già visti ci conosciamo sostiene anzi pone questa sorta di interrogativo Robert Nero Luis Seifer a Mickey Rourke in Angel Art con la mano sinistra è ovvio è il diavolo gli e lei ci conosciamo giusto quindi io va giusto prossimamente realizzarò un video molto cattivo molto crudele sì da peggio del maschio come Boulin D'Affaut De Niro doveva essere lui protagonista sì nell'ultima trattazione di Cristo The Last The Mutation of Christ poi dopo il no prima ci fu il sì poi il no di Bob Scorsese optò per Will and the Four De Niro disse no prima disse sì perché anche se fu New York Nick Nolte wonderful Daniel D. Lewis ora come il grande Daniel D. Lewis con l'occhio rifatto rifattevi gli occhi su di me come dice il grande Billy il macellaio when I close my hands quando chiudo le mie mani when I close my hands sì mi avete richiamato all'ordine uomini disordinati io posso essere ancora un grande attore se voglio perché io sono un gladiatore che posso dire in questi anni ho incontrato molti personaggi che posso dire in tutta fede questo che realizza video recensioni un bravo ragazzo fra me e lui non corre più buon sangue sì gli accordi diciamo le strette di mano che si possono vedere in un video realizzato un paio di anni fa in pieno periodo covid ecco gli accordi sono stati traditi e poi via di accretini e di rancori mal digeriti o mai soppiti ora lo so non mi digerite l'ho digerito male no ho mangiato soltanto delle patatine mascarpone ho detto perché opto per queste smorfi perché mi va di essere così flamboyetto sopra le righe in overacting come il grande nick cage l'ho dato da david lynch che lo definì un attore jazz ora speriamo di non bruciare il tavolo qui ma intavoliamo un discorso ora sono un uomo che vive di rendita sul suo carismo più che altro accecato dall'ondata di fumo che stava abbustolendo occhio destro ho rivisto ma non a porta ho riletto questo libro presto un altro video in merito io in merito questo mio amico si è maritato un altro è arrivato lì sono padre sono padre da quattro giorni e lui benvenuto nel club ma ancora io non appartengo a questo club chiese il club ma comunque come mi vengono come mi vengono scusate devo finire la sigaretta e bruciare voi streghe a proposito di stregonerie io mi inventerò un'altra diavoleria parafrasando Vasco Rossi ora non so non ci capite nulla della mia vita ma neanche io anch'io che casino che casino adesso sono qua già in casino david lynch questa è la scatola blu di muro l'andrile vi consiglio questo libro che ha venduto quattro copie sì io non ho sperato ovviamente non dovete dare rette a tutte le bugie che io racconto sì crimes of the future non mi è piaciuto però credo che questo qui ha scritto un libro è uscito a leggere il nome un certo falot che non conosco un falot a proposito di cose diaboliche avete letto il libro cuore angelico tenere tenebre sanguigna il diavolo è un giocatolaio ha cattato villa fra l'altro qualcuno ha dato per morta sofia l'ora ma non è vero sono bufalo io non sono buffalo bill ora dicevo io non conosco scorsese non voglio esservi scortese comunque scorsese fu scortese con nicolas cage qualcuno di rumor così o ci corridoio sostiene che doveva essere presente nel caso di killers of the flower moon ma dopo avervi lavorato scorsese per bringing out the dead la storia della mia vita portando fuori il morto che è risuscitato e torniamo forse alla resurrezione ma dicevo non mi piace questo nicolas cage fra l'altro la prima scelta fu edward norton si assomiglia molto edward norton di primer fear ma anche di cape fear no lì c'è de niro no di di burman perché sono batman sono joker deve sapere che sono pazzo per molti anni pensai di essere flash gordon scopri di essere kick ass l'avete visto questo film di matthew bogno registro di stardust degli x-men dottor brian singer ora uomini voi nutrite i soliti sospetti di usual suspects nei miei confronti siete dei nazisti come iam e kennel della lievo ora andate alleviati dalle vostre preoccupazioni non dovete allarmarvi andate allevati da me dare una porta di polanski l'ho visto e stavo già renderizzando perché occorrerà molto tempo prima che i rendering si è completato su netflix l'ho ho cercato poi su streaming community io tipo da comunità l'ho trovato rinvenuto resuscitato risumato su film per tutti ma scattava perché faceva contatto comunque emmanuel segna è una bella figa dubbiamente è una che io no non è adesso ho un po' invecchiato già in jacquus non è diciamo buona come ai tempi di frantic erison ford ritornerà in auge con questa di ijd technology no un'opera di ringiovanimento al suo viso indiana jones 5 così indiana jones io dovevo chiamarmi i sassi di matera i miei nati da quelle parti no se sei bello ti tirano le pietre se sei brutto ti tirano le pietre comunque c'era un giocatore del papa a proposito di calcio che stava con una sexy star petra ma petra non è quella città dove è ambientato chi mi ricordi a me non piace felini perché sono un grande bugiardo come federico ma non è frusciato no dicevo non è male questo film e non è male ora sono un cuor di leone non sono ricco ma sono riccardo mio cugino in secondo grado fa di nome riccardo Sean Connery e Robin Hood di questo ne vogliamo parlare radico di questo Diana Jones l'ultima crociata The Last Crusade perché ai tempi delle crociate diciamo questi uomini come Luke Merenda di Superfantozzi io sono leggendario come Rear 2 Scalibur Scansibur vi ricordate Luke Merenda? i miei compagni di Merenda comunque non è male anche questo sono stato divinizato sì mi diedi anche la teologia le dimensioni dell'uomo spirito anime corpo non è male questo libro non è male perché mi avevate preso per un gangster il padrino poi nei dieci comandamenti c'è quest'attore qua edward g robinson ma non sapete un cazzo né di cinema né di figa dicevo quello che stavo dicendo no? mi sono perso ecco Luke Merenda sono Robin Hood ruba i ricchi per dare ai poveri i poveri però diventano ricchi e allora come umano lei sono Robin Hood ruba i ricchi per dare ai poveri e poi c'è una canzone di Bruce Springsteen no? Angry Heart ora scusate riponiamo qui aggiustiamo le vostre teste e le riaggiorniamo è chiaro? tra l'altro prima di andare in questo pub ho scattato un po' di foto vede come sono handicappato imbranato e ho cosa fare le foto mi sono girato sicuramente non le scatto a te non sei un bel figurino eh coglione oh gli ho risposto levati dal cazzo idioto mi hai rotto le palle scusate dic questo ha avuto il privilegio poteva avere l'onore di parlare con moi e che cosa fa lo sfotò ma chi è questo qui questi sono i miei genitori questo paese diciamo dipinto in maniera pittoresca con questa l'anona porta non è male c'è Florinda Bolkan no Boris Bolkan grande l'angelo 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 Boris Bolkan non sento niente non sento niente oh dio e lì e lì brucia viene arso vivo poi c'è tutto un arso amanti del signor Johnny Depp che ci dà con la segnere che vi posso dire che vi posso dire questo è l'uno di fiele no a proposito di Leonardo DiCaprio che reciterà con De Niro Killers di Flower Muncher una volta a me non è piaciuto molto questo film Tarantino che poi ci sarà qualcosa di tarantiniano in questo video di prossima realizzazione ciac azione no dicevo mi sto perdendo in un delirio in un deniro che cosa? io sarei ritardato ma tu sei guardato lo specchio quanto che tu non sei Pratt Pete quindi uomini arriviamo a 20 minuti 20 minuti giusti questo video fa schifo questo video fa schifo diceva che stava dicendo non lo so c'era una volta in America lì De Niro dice non è proprio un italiano correttissimo a Max se questo sta bene a te a me non mi sta bene fra l'altro lì a Renzo Barrenzo e passa quella canzone yesterday vedrete se riuscirò ripeto a realizzare questo video yesterday poor McCartney sì ma lì De Niro è invecchiato io sono ingiovenito immagino il De Pee per tutta la gente che balla qui si ballerà poco perché l'Italia non si è qualificata per i mondiali potrebbe vingere l'Orlanda la prima squadra classificata per il quarto finale e cosa ne pensa signor Nanni Moretti di Strange Days la vedi quella filippina lì la vedi vorresti essere lì per 15 minuti 15 minuti giusti che siamo in 50 minutes di John Herzl 15 minuti for lì omicida a New York quindi povere cazzone guardate dovete fare ingazzare io sono ingazzoso e poi diventando ingazzetto spezza la lancia il capocollo c'è anche la parodia lì lo bambianesco in Diana Johnson il Tempio Maledetto Good night and good luck